Ciao bimbi, oggi vi racconterò una storia, è la storia di un piccolo trenino che un giorno aveva deciso di andare in giro per il mondo. Comincia a camminare e canta la canzone. Ecco il treno lungo lungo che attraversa la città, lo vedete, lo sentite, ecco il treno, eccolo qua. E nel camminare capiva che stava andando in giro per il mondo. Incontrò prima una città, poi ne incontrò un'altra, e poi ancora un'altra, e poi andò dove c'era un bellissimo vulcano. E continuava ancora a cantare perché era tanto felice. Ecco il treno lungo lungo che attraversa la città, lo vedete, lo sentite, ecco il treno, eccolo qua. Questo trenino l'ho ideato io, è facile facile, lo potete fare anche voi a casa. Ciao bimbi!